Sandro Campagna, in finale per la medaglia d'oro ci va la Croazia, ma abbiamo visto tante proteste, soprattutto una semifinale decisa da un rigore. Non ne voglio parlare perché quello rigore, secondo me, ho detto anche agli arbi, è una vergogna, perché quella è espulsione, perché controfallo 2 contro 1, netto, dolce da partito, e Jimbo non aveva neanche alzato il pallone, Fatovic ha vinto la partita, con quella cosa è affischiata addirittura un rigore, anziché era espulsione di Fatovic, 2 contro 1 dall'altra parte, e quindi andavamo in vantaggio noi a un minuto e mezzo dalla fine. Ma al di là di questo abbiamo sbagliato tanto in fase decisiva, tanti giocatori oggi non c'erano, ma questo fa parte del percorso di crescita. Questo per tanta gente era il primo europeo, sì abbiamo fatto un mondiale, il Navor League, ma comunque di fronte a queste persone non hanno mai giocato, quindi ci sta l'errore, la poca freddezza nelle conclusioni, abbiamo recuperato una partita pazzesca, 2 sotto, siamo andati pari, uomini più per noi, e l'abbiamo mancato, Nicolas non li fa quegli errori là, è sbagliato davanti alla porta, Cannella ha fatto 0 su 6, su 7, non lo so. Peccato, ci sono mancati gli stoccatori in certi momenti, però al di là di questo dettaglio, che non è una critica, ma è soltanto un motivo per spungolare i miei giocatori a crescere, i ragazzi sono straordinari, ovviamente sono orgoglioso di allenare questa squadra che può andare molto lontano, intanto siamo lì, tra i migliori del mondo, d'Europa, per batterci devono fare queste cose così, insomma, se no non ci battono facilmente. Grazie.